E non mi riferisco soltanto alla Toscana 5 Stelle o alla Campania 5 Stelle o alla Lombardia in camicia verde. Mi riferisco più in generale a un atteggiamento per cui sei garantista quando tocca ai tuoi e sei giustizialista quando tocca agli altri, che è insopportabile. Per cui noi siamo genuinamente garantisti. Noi non chiediamo le dimissioni del sindaco di Livorno. Non le chiediamo. Sarà il sindaco di Livorno a fare le proprie valutazioni davanti al suo Consiglio Comunale, alle sue istituzioni, quale che esse riconosca, quale che egli riconosca. Ma il punto chiave che abbiamo di fronte oggi è, vogliamo essere in grado di non vergognarci di ciò che siamo oggi? Ho ricevuto una reprimenda di Piero Fassino. Lo voglio dire perché Piero è una persona che tutti noi stimiamo molto ed è un lottatore straordinario e tenace. A lui come a tutti i suoi e ai nostri colleghi che sono in pista per le elezioni amministrative è il più caloroso e affettuoso in bocca al lupo della comunità del PD.